Anticipazioni il segreto dal 13 febbraio 2018, barra barra ecco chi ritorna nella sua app. Il segreto anticipazioni puntate dal 13 febbraio 2018, un ritorno, che insospettisce tutti. Pronti per un nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti le prossime puntate del segreto, che saranno in onda su canale 5 a partire da domani 13 febbraio in prima visione assoluta. Possiamo svelarvi che anche questa volta non mancheranno i colpi di scena, uno dei, quali avrà a che fare con il ritorno nella sua app di una cucina di donna Francesca, che a quanto pare però finirà per fare insospettire molti degli abitanti del paese. Ecco le anticipazioni del segreto dal 13 febbraio 2018, un ritorno inatteso. Francesca, infatti, sostiene che questa sua cugina Nazaria sia stata già ospite da lei a Poente Viejo in passato ma nessuno se la ricorda e la presenza della donna non passerà inosservata. Le anticipazioni del segreto dal 13 gennaio 2018, infatti, rivelano che Nazaria è la donna, che Maurizio ha sposato per procura obbedendo così alla richiesta della perfida Francesca, la quale aveva deciso che l'uomo dovesse coinvolare a nozze con questa sua parente, senza neppure ascoltare il parere di Maurizio. Sta di fatto che al momento Maurizio risulta sposato con Nazaria e questa cosa farà soffrire non poco la bella Fe, la quale è innamorata follemente del fido di donna Francesca ma purtroppo dovrà farsi una ragione. Le anticipazioni del segreto rivelano che l'arrivo di Nazaria in paese renderà a tutto ancora più complicato. La donna, infatti, metterà in difficoltà Nazaria quasi come se sapesse che la cameriera è la sua rivale in amore. E così vedremo che inizierà a tempestarla di domande sulla sua relazione con Godoy. Il dramma di Marcella tradita dal marito. Nel frattempo vedremo che Nicola sprende in a cuore la vicenda di Camila e decide di darle una mano nella ricerca della piccola bimba di nome Belen, che in realtà è la figlia di Nestor. E poi ancora possiamo anticiparvi che nelle prossime puntate del segreto, che saranno trasmesse su Canale 5 dal 13 febbraio 2018 vedremo, che Severo decide di mettersi ad indagare sulla morte di Eusebio, convinto che prima o poi porterà alla luce tutta la verità. A quel punto vedremo che donna Francesca si renderà a conto, che non le rimane altro che studiare un pianto per potersi liberare definitivamente di Garry Guest. Le anticipazioni della sua piberica, inoltre, rivelano che Marcella è al settimo cielo per tutti i complimenti, che ha ricevuto riguardo il suo lavoro nella cucina della locanda d'O Emilia, ma non può immaginare che suo marito la sta tradendo con un'altra donna a sua insaputa. Grazie mille.